e quando la ciociara sarà vita a noi non c'è stanno coroni di fiori a noi non c'è stanno i giorni della memoria non teniamo niente soldati questa volta non è solo la libertà delle vostre terre che vi offro se vincerete questa battaglia alle spalle del nemico ci sono donne, cade, c'è un dio tra i figli del mondo, c'è dell'oro tutto ciò sarà conto se vincerete pregamo che la violenza che sapevo avrei subito durasse più a lungo possibile perché lei riuscisse a scappare la mia mamma piena di gravità curasse angogna come stabilisce la legge numero 10 del 9 gennaio 1951 gli indennizi vanno considerati alla pari di quelli allargiti in caso di incidente sul lavoro le domande furono 17.368 e finora ne sono state trattate 9.492 quelle che rappresentavano i casi più grandi e furono concesse 508.771.740 bisognava mandare l'esercito per fermare forse che esse sono delle venivanti o delle pazze criminali quello che chiediamo oggi è di applicare le leggi della repubblica italiana per punire responsabile ma di studiare anche procedimenti speciali perché questo è un male di passione a tutti gli altri che la guerra ci ha portato concedete alle donne violentate dal banchino un assegno vitalizio o una tantum commisurate alla vita che esse ci ispirano fermatevi a pensare a queste donne voi che state già fornendo un appoggio a quello che preparano una nuova guerra si curavano? sì ma solo nel corpo nessuno ci chiese mai come stavano cagliano vento d'esta storia se ne voltano cento a cento